Feste con l'influenza, le marche fra le regioni più colpite, la salma di Anastasia torna in Ucraina, lutto cittadino a Fano, riapre la chiesa dei Cappuccini, appello per la pieve di Candelara, tornatore protagonista della prossima mostra del cinema di Pesaro, VL sconfitta fra gli applausi, ma Mazzola si rompe il tendine d'Achille. Una buona serata e buone feste a tutti voi pubblico di Rossini TV che come sempre ci seguite sul canale 80, riparte Rossini News, riparte il nostro telegiornale dopo una piccola pausa che ci siamo presi in questi giorni festivi della vigilia del Natale e di Santo Stefano, feste che ci auguriamo abbiate trascorso in maniera serena in compagnia delle vostre famiglie e dei vostri cari, feste che però sono state turbate per molti marchigiani da un invitato poco gradito, quello dell'influenza che si è accanita in particolar modo sulla nostra regione, che è stata la seconda più colpita d'Italia, come possiamo vedere nel nostro primo servizio. È stato un Natale dal termometro bollente e fino a Capodanno l'influenza australiana potrebbe non trovare altri freni nella sua diffusione nelle marche. In regione infatti il numero di nuovi contagi settimanali è arrivato ad una soglia di intensità seconda soltanto all'Abruzzo con un picco di quasi 22 influenzati su 1000 assistiti. Parliamo di 32.600 influenzati nella settimana tra il 12 e il 18 dicembre che fanno salire i marchigiani ad un totale di 164.000 persone a letto con febbre, tosse o raffreddore. Non ci sono per ora monitoraggi che indicano la possibilità di un calo contagi, quindi alle spalle ci sono giorni di festeggiamenti che probabilmente lasceranno qualche contagio in più. E se l'Australiana continua la sua espansione scende invece la curva dei contagi da SARS-CoV-2, complici forse i pochi tamponi molecolari antigenici ufficiali che anche l'anno scorso sono diminuiti in vista delle feste natalizie, dando più spazio ai tamponi fai-da-te. Quest'anno abbiamo in più l'influenza che è particolarmente pericolosa perché dopo due anni di mascherine, dopo due anni che non siamo venuti a contatto con il virus dell'influenza, quest'anno assistiamo ad un'epidemia influenzale un pochino più grave rispetto allo stesso Covid. Il Covid circola però comunque, ma credo che siamo arrivati non più alla fase di pandemia ma alla fase di endemia, quindi dovremmo vivere ancora per tanti altri anni con questo virus e diventerà un po' come il nostro virus dell'influenza. Mascherine no, da un punto di vista di obbligo, però credo che un po' di rispetto, soprattutto quando ci troviamo negli ambienti chiusi insieme a tante altre persone, utilizzare la mascherina e il distanziamento e soprattutto la sanificazione delle mani che sono il veicolo principale, credo che sia un buon comportamento da continuare a mettere in atto ancora. Per quanto riguarda i vaccini, le marche restano in ritardo sulla tabella di marcia. Infatti la copertura della quarta dose ha un tasso del 21% rispetto alla media italiana che è arrivata invece a una copertura del 28%. Rimangono gli over 65 quelli più propensi a vaccinarsi sia per l'influenza australiana sia per il coronavirus. Il consiglio principale è quello di vaccinarsi, di non temere perché i vaccini del Covid soprattutto servono per quel ceppo di Covid per il quale è stato formato. Gli ultimi, il 4 e il 5, diciamo se così le vogliamo chiamare, hanno le ultime varianti e tra l'altro anche proprio perché sono delle tipologie di vaccini diversi possono essere somministrati contemporaneamente sia il vaccino dell'influenza che il vaccino del Covid. Quindi serve solamente un po' di buona volontà e di andare nei nostri centri. Sgomento a Pesaro e ad Ancona per la scomparsa ad appena 51 anni di Francesca Ercolini, giudice della sezione civile del Tribunale di Ancona che è stata trovata senza vita dal marito all'avvocato Lorenzo Ruggeri e dal figlio adolescente nel giorno di Santo Stefano proprio mentre i familiari stavano rincasando nella zona mare di Pesaro nella loro abitazione di Viale Zara. All'arrivo del 118, allertato dai familiari, per il magistrato non c'era più nulla da fare. Il cuore aveva cessato di battere malgrado i tentativi di rianimazione. Una tragedia straziante all'indomani delle feste di un Natale sereno in cui tutto sembrava normale. Scioccato il mondo della avvocatura e della magistratura marchigiana. Ed è invece stato dichiarato lutto cittadino nella città di Fano per domani 28 dicembre. A comunicarlo il sindaco Massimo Seri in una data che contrassegnerà la partenza da Fano verso l'Ucraina della salma di Anastasia Alascheri, la 23enne uccisa dal marito lo scorso 14 novembre. Un femminicidio che ha particolarmente scosso la comunità fanese dove Anastasia si era trasferita scappando dalla guerra in Ucraina. Il lutto cittadino non comporterà la chiusura di esercizi commerciali ma saranno esposte bandiera a mezz'asta nel palazzo del municipio in segno di dolore e cordoglio della comunità fanese. Un mese e mezzo dopo il sisma cominciato il 9 novembre in questa vigilia di Natale ha finalmente riaperto la chiesa dei Cappuccini tornata agibile e tornata ad essere frequentata dai parrocchiani proprio nella messa delle 24 dicembre. Ora però ci si sta mobilitando anche per rimettere in sesto la pieve di Candelara. Missione compiuta. Dopo le ferite del sisma la chiesa dei Cappuccini è stata riconsegnata agibile e messa in sicurezza in tempo utile a celebrare la messa della vigilia di Natale. In meno di una settimana di cantiere la ditta pesarese Mercolini e Torelli ha messo davanti a tutto il valore della comunità e si è rimboccata le maniche in autonomia per completare i lavori. Una generosità che non è passata inosservata al comune di Pesaro che oggi ha conferito il plauso della città nelle mani dei co-titolari di impresa Matteo Mercolini e Fabio Torelli. Il sindaco Ricci e l'assessora Franco e Luci hanno premiato un gesto di grande cuore avvenuto grazie alla tempestività, alla dedizione e alla competenza di un'attività pesarese mossa da enorme spirito di solidarietà. È andata bene, ci siamo riusciti nella settimana di Natale quando ci eravamo visti, siamo riusciti a completare il lavoro, fortunatamente il tempo ci ha dato una mano e noi ci abbiamo messo ovviamente del nostro tanto impegno ed è un grande orgoglio per noi e per tutti i ragazzi, i nostri collaboratori dipendenti aver ricevuto questo premio. E se alla vigilia di Natale ha riaperto la chiesa dei Cappuccini, nel giorno di Santo Stefano è stato invece lanciato un appello per ripristinare anche la pieve di Candelara, chiesa del VI secolo, una delle più antiche della città che allo stesso modo è transennata dal 9 novembre quando ha subito crepe e danni strutturali ingentissimi dalle prime scosse di terremoto. A lanciare una petizione Roberto Malini e il Comitato Pesaro Città d'Arte e Cultura per non lasciare cadere nel dimenticatoio un patrimonio architettonico e un luogo comunitario delle colline e castelli con i parrocchiani attualmente trasferitisi nella chiesa di Santa Maria dell'Arzilla. Messaggio che è stato recapitato fra gli altri all'Arcidiocesi a Monsignor Sandro Salvucci e alla soprintendenza per i beni architettonici del Vaticano. E dal post-sisma alla post-alluvione cambiano le calamità naturali ma restano i gesti concreti di solidarietà. Questa volta il destinatario è la città di Cantiano e il mittente il popolo dei tifosi della VL. Quasi 9.300 spettatori sugli spalti. Praticamente un decimo della città di Pesaro nella sera di Santo Stefano non ha soltanto applaudito una VL mai d'oma contro la capolista Virtus Bologna ma è stata nuovamente toccata nell'animo da quanto accaduto tre mesi e mezzo prima nella vicina Cantiano. Un territorio messo in ginocchio dall'alluvione e dall'enorme difficoltà a ripartire. Perché gli aiuti statali hanno tempi lenti mentre la generosità dei privati sta facendo tanto e la VL non è rimasta indifferente. Ieri sera durante la partita da tutto esaurita è stata allestita una raccolta fondi per il comune di Cantiano nei tre principali punti d'ingresso della Vitrifrigo Arena. Una raccolta che continua con la possibilità di donazioni bancarie che già hanno fatto tanto ma che continuano ad essere il principale sostentamento a un territorio che senza aiuti rischia di essere desertificato. Come ricordato dalla consigliera regionale Micaela Vitri che ha sostenuto la raccolta fondi nell'arena, come enfatizzato soprattutto dalle parole del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini intervenuto all'intervallo della partita. Oggi il comprensorio del carro è un territorio felico che necessita di sostegno. Ad oggi a cento giorni da quell'evento l'unico vero segnale concreto e tangibile che ci sta supportando è la tanta solidarietà che ci sta arrivando in particolare anche dalla città di Pesero che ringrazio infinitamente per esserci stato accanto in quei momenti, fango e pala alla mano per ridare dignità ai nostri territori. In questi ultimi giorni di dicembre si moltiplicano i calendari che potete acquistare o trovare in varie forme nel nostro territorio. Da tre anni è diventato un calendario immancabile, nella nostra provincia, quello realizzato dall'azienda Midor che ogni anno valorizza un comune del nostro territorio. Quest'anno sotto i riflettori ci finisce Urbania, come potrete vedere nello speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini che trasmetteremo questa sera alle 21.20 e del quale vi forniamo alcune anticipazioni. Un calendario che viene presentato al comune di Urbania ed è il calendario Midor che i telespettatori di Rossini TV conoscono benissimo perché lo stiamo seguendo fin dalla primissima edizione, un calendario fotografico che ha una missione speciale, ce la faremo raccontare poi più tardi anche attraverso le nostre interviste, ma la anticipiamo. Qual è la missione? Quella di far conoscere sempre meglio il nostro territorio. È nato tre anni fa partendo da Fermignano, poi l'anno scorso con Urbina e quest'anno con in Urbania, perché Fermignano è sede dell'azienda ovviamente, è nato tutto così per caso valorizzando un territorio e da lì mi è venuta l'idea di perché non valorizziamo tutta la nostra provincia, ci viviamo, lavoriamo tutti i giorni, quindi è anche giusto dare qualcosa in cambio al territorio e non sempre solo prendere. È un progetto che ho sposato subito, sono molto felice chiaramente perché le mie due passioni, la fotografia e la politica, si incontrano perché è davvero una grande pubblicità per il nostro territorio e abbiamo cercato infatti fotograficamente di riportare tutti i momenti importanti e i luoghi importanti della nostra città, quindi per esempio cominciamo chiaramente con la festa della Befana che è la festa nazionale e quindi caratterizza Urbania per poi continuare con i luoghi più belli di Urbania. Valorizzare questo nostro territorio perché manca da parte di tutti un pochino dal mio punto di vista l'aiuto e il sostegno morale e di smettere di dire che da noi manca tutto perché in effetti è vero, rispetto alle grandi metropole c'è qualcosa che manca, però se facciamo un conto da ragionieri, nelle grandi metropole prima di tutto per spostarsi ci vuole un'ora per fare pochi chilometri, noi qui con un'ora arriviamo al mare e siamo beati tranquilli ma con un'ora arriviamo anche nelle nostre colline, nelle nostre montagne fino a Montenerone, qui a Urbania c'è Montiego meraviglioso, ci sono oltre 50 tipi di orchidee da valorizzare e appressarle di più, ma poi città di Urbania è un'opera d'arte, città murata c'è tanto, anche le città murate vanno secondo me narrate, raccontate molto di più e quindi questo è il messaggio che ci terremo ed è motivo del nostro calendario. Beh, è un'iniziativa da parte di un'azienda del nostro territorio molto bella che chiaramente all'intento di far conoscere questo territorio che è bellissimo, è un territorio della nostra valle, dell'Alto Metauro insomma, è un territorio ma tutto l'entroterra, è gradevole con queste colline mobili, un paesaggio ambientale bellissimo con questi centri borghi storici insomma che hanno una qualità e una bellezza uniche. Sono state ufficializzate oggi le date della 59esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema che si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 e con essa anche l'apertura degli annessi bandi di concorso. Soprattutto è stato annunciato anche l'evento speciale di questa edizione che sarà dedicato a Giuseppe Tornatore, già vincitore di Golden Globe Grand Prix speciale Cannes, premi BAFTA, 11 Davide Donatello e anche il premio Oscar per il miglior film straniero con il nuovo cinema Paradiso. Il grande regista siciliano dunque parteciperà con una retrospettiva dei suoi 12 film e 10 documentari. Ed è ripartito oggi anche il tradizionale torneo di Natale di basket Ciao Rudy, organizzato come di consueto dalla Sportsman Grandi Eventi. Si tratta della 22esima edizione di questa rassegna che in questo fine 2022 porta a Pesaro 56 squadre giovanili che si sfideranno in 11 impianti comunali per un totale di 1500 presenze fra gli alberghi della città e quelli della vicina Gambicce Mare. E la raccolta fondi di cui vi abbiamo parlato poco fa è stata solo una delle tante emozioni del Santo Stefano trascorso alla Vitri Frigo Arena in cui la VL ha ceduto solo al tempo supplementare contro la capolista Virtus Bologna. 9211 spettatori alla Vitri Frigo Arena si regalano un Santo Stefano da tutto esaurito nell'astronave. Ed è stato un Monday Night festivo trascorso ad applaudire una VL coriaccia e combattiva che ha ceduto alla capolista Virtus Bologna solo dopo un tempo supplementare. La VL chiude la partita a testa alta con una sconfitta 82-87 all'overtime, epilogo di un match appassionante in cui la Segafredo prova a scappare solo nel primo quarto chiuso sul 25-18 ma la VL è sempre lì a controbattere colpo su colpo. Dal primo tempo chiuso sul vantaggio pesarese 40-39 al 73-73 sulla sirena deciso da una bomba del Virtusino Bellinelli a 16 secondi dal termine. Nelle supplementare la VL c'è ma deve fare a meno prima di Mazzola infortunato, idem per Delfino e poi pure di Moretti uscito per 5 falli. Nel finale Schenghelia timbra il sorpasso, Citan perde palla in attacco e Wim segna l'82-87 conclusivo. Il 2022 della VL si concluderà il 30 dicembre a Reggio Emilia e ci arriverà una Carpegna prosciutto basket pronta a sgomitare in un quartetto di 4 squadra a 14 punti collocate fra quarto e settimo posto. Non c'è però solo il campo ad occupare i pensieri ma anche l'infermeria. Il risponso medico sull'infortunio riportato da Valerio Mazzola ha dato oggi il peggiore dei verdetti. Il giocatore ha riportato un trauma alla gamba destra con rottura del tendine d'Achille. Mazzola sarà così sottoposto a intervento chirurgico di riparazione da parte del dottor Raulzini presso la clinica Maria Cecilia Hospital di Cotignola e per la VL occorrerà giocoforza tornare sul mercato. Dal basket alla pallavolo è stato uno splendido boxing day per la megabox Vallefoglia che a Urbino ha vinto in E3-7 il derby con Macerata. Nel calcio invece il 2022 della Vispesoro si era chiuso il 23 dicembre nelle peggiore dei modi con la terza sconfitta su tre uscite di Mister Brevi che con la Recanatese ha perso un sanguinoso match salvezza. A decidere è stata una rete di sbaffo al 91esimo per una Vis che chiude il 2022 con 13 partite di fila senza vittoria e soprattutto con un avvilente penultimo posto in classifica. E completiamo lo spazio dedicato alle notizie sportive ricordandovi che domani sera torna anche in campo l'Ital Service Pesaro di calcio a 5 nella partita di congedo da questo 2022 davvero molto particolare per il futsal pesarese. Si chiude mercoledì 28 dicembre a Eboli il 2022 double fast dell'Ital Service Pesaro che proprio con la Feldi lo scorso giugno aveva vinto il suo strepitoso terzo scudetto consecutivo di calcio a 5. Un paradiso toccato per la terza volta alla quale sono seguiti altri sei mesi dell'anno molto diversi. Vuoi per un ridimensionamento dei livelli massimi per ragioni ormai note ma dalle conseguenze impronosticabili che oggi producono una classifica da play out con la quale la squadra pesarese è costretta a convivere dopo 13 giornate in cui si sono raccimolati 12 punti frutto di tre vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Sconfitte che sono attualmente tre di fila in questo complicato mese di dicembre. La squadra di Colini nel match prenatalizio è caduta per 1 a 2 al palafiera contro la Sandro Abate in una partita diventata ulteriormente complessa per gli infortuni di Canal al Flan, João Miguel e il turno di squalifica di De Oliveira. Così la Sandro Abate ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Alex, l'Ital Service ha lottato trovando il pareggio sul rigore di Murillo Schioquette al 33esimo ma è caduta un minuto e mezzo dopo con l'inserimento del portiere di movimento e la rete di Avellino valsa l'1-2 finale. Ora a Eboli ultimo tentativo dell'anno per invertire la rotta. Si gioca mercoledì 28 dicembre al Palasele alle 20.45. Questa volta non ci sarà uno scudetto in palio ma la sfida fra una fel di sesta e Unità al Service 13esima. Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti nella nostra serata a cominciare da quello che arriva subito dopo la prima edizione del nostro Tg perché alle 20.10 vi proporremo il nostro documento relativo all'orientamento scolastico per quello che riguarda l'Istituto Economico Tecnologico di Pesaro Bramante Genga appuntamento come detto alle 20.10. E poi la nostra prima serata come vi abbiamo anticipato all'interno del Tg continua con la presentazione del calendario Midor 2023 che per quest'anno viene dedicato alla città di Urbagna come detto appuntamento alle 21.20. Si conclude qui il Tg ma l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che come sempre vi trasmettiamo in diretta a partire dalle 7.20 domani a tenervi compagnia ci sarà il nostro Antonio Astuti. Ed è davvero tutto per questa sera, per questa edizione del telegiornale Rossini News. Ora vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata e buone feste in compagnia dei nostri programmi.